Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video, oggi sono qui con un evento speciale di FIFA 16 Ultimate Team, si tratta del Foot Birthday in occasione dei 7 anni di FIFA Ultimate Team c'è questo evento speciale davvero ottimo perché potrete sia guadagnarci che ottenere nuove divise e ci sono anche delle novità importanti per quanto riguarda i ruoli dei giocatori la durata del torneo va dal 21 marzo al 28 di marzo e diciamo che per quanto riguarda i tornei ci saranno dei premi migliori per ogni vittoria sia online che offline passiamo ora invece a una novità davvero molto importante, infatti per questo evento di FIFA 16 Ultimate Team ci saranno dei pacchetti gratis che potete riscattare semplicemente entrando dalla vostra console o sulla web app comunque non si sa se ci saranno altri pacchetti gratis oltre a oggi inoltre un torneo davvero molto speciale per quanto riguarda Foot Birthday perché se vincerete questo torneo online otterrete una divisa gialla della EA Sports FIFA 16 Ultimate Team davvero molto bella, magari vi metterò le immagini quindi davvero ottimo per quanto riguarda i pacchetti vi ho detto che non sono un gran che ma comunque sono abbastanza grossi e quindi potrete trovare qualcuno se avete molta ma molta fortuna infine concludiamo proprio con quella che è l'unica vera novità per quanto riguarda questo torneo ossia i cambi di ruolo infatti qui potete vedere tutti i giocatori che sono stati cambiati di ruolo oltre a questi vi segnalo sicuramente Bale che è passato a attaccante come ruolo così come Cristiano Ronaldo e Sanchez attaccante per quanto riguarda i top player ma comunque ce ne sono molti altri davvero molto interessanti che vi lascio il piacere di scoprire detto questo io spero che questo mio video informativo su Foot Birthday vi sia stato utile vi invito a riscattare il prima possibile il pacchetto gratis detto questo ciao a tutti ragazzi al prossimo video ciao